Tre codice rosso sono stati attivati nel Fermano per maltrattamenti commessi da uomini nei confronti delle mogli o delle conviventi. La procedura che serve a tutelare vittime di violenza è scattata dopo i racconti compiuti ai carabinieri. Nel primo caso le indagini sono scaturite dalla denuncia di una residente e hanno portato al deferimento del marito 46enne per maltrattamenti in famiglia. La donna ha riferito che da diversi anni il coniuge la teneva sotto scacco con molestie e minacce. A pedaso i carabinieri hanno invece denunciato un cinquantenne dopo che la moglie convivente aveva segnalato maltrattamenti che duravano da circa dieci anni. Nell'ultima occasione c'era stata anche una brutale aggressione fisica tanto da spingerla a temere per la sua incolumità. Anche in questo caso la vittima non aveva mai chiesto in passato assistenza medica o l'intervento delle forze dell'ordine. Nel fermano in conclusione a Montottone i carabinieri hanno attivato la procedura di codice rosso e denunciato un 35enne per maltrattamenti in famiglia ai danni della giovane convivente. Avrebbe ripetutamente minacciato la donna e commesso atti di violenza fisica sulla ragazza dal giorno scorso. I carabinieri di fermo ribadiscono come sia fondamentale denunciare qualsiasi forma di maltrattamento o situazione di pericolo. Le leggi esistenti sono progettate per proteggere chi è vittima di violenza domestica e garantire giustizia.